Tutti che cercano di colpire Vegeta ma non ci riescono Vegeta Super Saiyan che sfida l'intero esercito di Forte Zancudo Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati finalmente su GTA V Perché qui abbiamo Vegeta direttamente da Dragon Ball Se ricordate settimana scorsa abbiamo visto Goku Super Saiyan Ed oggi vedremo Vegeta Super Saiyan Infatti così come Goku può trasformarsi Ragazzi miei, quindi anche Vegeta è giunto nel mondo di Dragon Ball Qui a Los Santos per conquistare la città Poi chiaramente nei prossimi video Ammesso che voi vogliate che questa diventi una vera serie Faremo scontrare tutti i Saiyan tra loro Anche perché ho altri personaggi da mostrarvi Che arrivano direttamente da Dragon Ball Super Tra cui Bills, il dio della distruzione Se volete quindi tutti questi nuovi personaggi Pollice in su adesso Proviamo a superare almeno i 7000 fottutissimi like Fatevi sentire come non mai per questa serie davvero incredibile Anche perché ho visto che in Italia nessuno finora ha mai portato Vegeta Infatti ragazzi sono a stretto contatto con il modder che ha creato la mod In modo tale da creare insieme nuove mod E quindi proporvele qui sul canale Per Vegeta ho una bella novità che non vi avevo mostrato con Goku Preparatevi ragazzi miei Perché ecco qui Vegeta che vola Voi potreste dire beh sta accadendo No ragazzi guardate un po' Sto riprendendo quota e vado in alto Quindi mano a mano con tutte le mod che sto installando Otteniamo dei veri Saiyan con tutti i loro poteri Adesso sto cercando la Fireball Che dovrebbe essere tipo una sorta di palla infuocata Che può lanciare il personaggio E poi tante altre cose fighe E così come abbiamo fatto con Goku Vegeta farà davvero il devasto allo Santos In modo tale da provare a conquistare questo nuovo grandissimo mondo Ovvero la Terra Ed eccoci direttamente in spiagge Il nostro Vegeta come potete notare è chiaramente l'impossibile con sé Guardate questo Vegeta quanto è strano con un'arma in mano Se io provassi a fare una roba del genere Tutti che già urlano Ma non è nemmeno esploso Cioè tutti mi stavano guardando Effettivamente ragazzi è strano vedere Vegeta qua Tra l'altro poi il fatto è che C'è anche la trasformazione in Super Saiyan Ma quella la faremo tra qualche minuto Quindi ragazzi dovete assolutamente guardare il video fino alla fine Non ho ancora capito dove sono finiti tutti Non dirmi che sono già tutti scappati perché non è proprio possibile Sento però comunque nelle cuffie che sta per arrivare la polizia Noi quindi ragazzi facciamo un po' di bordello Un'auto esplosa quindi una mira perfetta E sento già qualche elicottero Ma quello cos'è? Ragazzi sapete che vi dico? Facciamo così proviamo a raggiungerlo Non so se ce la faccio No non devi coprirti Vegeta Un principe dei Saiyan non si copre Allora io provo a volare Vediamo se ce la faccio Sì Io non so cosa succederà se gli andiamo contro Guarda guarda che lo raggiungiamo Guarda ragazzi è vicinissimo No Riuscire a beccarlo è difficile ragazzi È davvero molto molto difficile Però ci provo No tra l'altro potrei tagliarmi con le pale Probabile Anche se comunque il nostro Vegeta è un Saiyan È tra virgolette Invincibile no? Anche perché abbiamo proprio il trucco dell'invincibilità Quindi tanto vale sfruttarlo E ne abbiamo un altro qui Tutti questi elicotteri che vedono un Saiyan volare Hanno più o meno paura no? Dai 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 Adesso cadiamoci piano piano Senza farci male Vegeta Oh mamma mia si è spiaccicato poverino Ma non ci fermiamo qui Ho questa granata Prova a lanciarla Vediamo se questi riescono a salvarsi Avrei anche il fucile da cecchino Boom Preso Ragazzi sto facendo il devasto più totale Ma questi però già stanno scappando Io ho paura che prima o poi arrivi la polizia Però raga meglio così Guardate raga abbiamo fatto già due morti poverini E il fucile da cecchino Vediamo qualche altra arma Ecco il fucile a pompa Guardate Vegeta ragazzi Non è stranissimo vederlo così Credo che mano a mano stiano arrivando Noi quindi direi che è il caso di fare più bordello Questo non mi deve scappare Beccalo comunque Aspetta almeno uno lo prendiamo Boom Fatto esplodere Molto bene Ed eccoli qui Eccoli ragazzi Oh mio dio Faranno una bruttissima fine tutti Faranno una bruttissima fine tutti Ed ecco finalmente il devasto di Vegeta Ci hanno messo un po' per arrivare sti sbirri eh Però ragazzi li facciamo fuori Uno dopo l'altro Bam Poverini ragazzi Però cambiamo anche un po' le armi Abbiamo la pistola Guardate Vegeta come la impugna Che poi bisogna essere sinceri Per un principe dei Saiyan Utilizzare delle armi Dovrebbe essere davvero vergognoso E noi comunque ora lo stiamo facendo Vediamo un po' Abbiamo la pistola da combattimento Abbiamo tra le altre armi L'MG da combattimento Quindi una bella mitraglietta Poi il fucile d'assalto Molto molto bene E ragazzi Cosa sta succedendo qui Già abbiamo alle spalle un bordello Di altri nemici Allora Qui ho finalmente anche il fucile a pompa Proviamo ad utilizzarlo Vediamo un po' Boom Colpito in pieno E stanno incominciando ad arrivare i rinforzi Eh ragazzi Guardate quanti ne stanno arrivando E ragazzi come al solito Vegeta si trasformerà chiaramente In Super Saiyan Ma tra poco Quando andremo direttamente a Forte Zancudo Perché è lì chiaramente Che c'è il devasto più grande tra tutti Quindi direi a questo punto Di provare a colpire gli altri Molto molto bene Però sono sempre di più La situazione si complica Credo di essere arrivato a 5 stelle Non lo so ragazzi Perché ho tolto qualsiasi altra cosa Che c'era a schermo Non volevo robe che mi disturbavano Mentre appunto facevo il devasto Qui in città O in generale Qua sulla spiaggia Perché la spiaggia vi ricordo Che è ancora molto molto vicina Tutti che ci stanno provando A farci fuori Ragazzi miei Però nulla da fare Tutte le auto ormai sono esplose Credo che siano almeno 15 persone Che stanno provando Almeno un po' A colpirci Però ragazzi Pochi cavoli Ci stanno provando Ma non ci riescono Nemmeno un pochetto Vediamo un po' Nulla Non riesco a colpirlo Perché poi si sposta Tra le altre armi Dovrei avere a disposizione Anche altra roba figa Eccolo qua abbiamo il Gunsberg No No di nuovo lui Aspetta volevo cambiare arma Eccola qua La mitragliatrice Vediamo un po' Prova di impugnarla Ed ecco qua Finalmente li facciamo fuori In maniera più veloce Peccato che Il caricatore sia davvero piccino Allora Vai così di cattiveria Benissimo Eccoli lì Anche lui che fa una brutta fine Ma ragazzi È arrivato il momento Di volare via È arrivato il momento Di raggiungere Fort Zancudo E lì Sarà lì Che diventeremo Dei veri Super Saiyan Vegeta Devi rialzarti Perché non ti alzi Vegeta Ti fai male Così Mamma mia Giusto in tempo Abbiamo preso quota Ed eccoci che siamo quasi arrivati Ragazzi Guardate Vegeta Cioè Che arriva così A forza Zancudo È davvero una roba stranissima Nel frattempo Stanno già arrivando Anche gli elicotteri Minchia Un attimo Mi date il tempo Di arrivarci Almeno Proviamo a scontrarlo Che succede? Boom Ci siamo fatti male noi Però Vegeta riprende a volare Mamma mia Che Saiyan ragazzi Che Saiyan Che abbiamo qui Nel frattempo però Credo che devo atterrare E non credo posso fare un atterraggio tranquillo Aia Ha fatto male Ha fatto male Però Vegeta si rialza Guardatelo qua ragazzi Vegeta A forza Zancudo Per fare il devasto più totale E ci siamo amici miei Anche se vedo che non arrivano Eccoli qua Già qualcuno sta arrivando Incominciamo ad attirare Un bel po' l'attenzione ragazzi Riprendiamo di nuovo Il bazooka Perché così almeno Facciamo un po' di casino Proviamo a fare esplodere roba Mamma mia Che esplosione qua Eccoli qua Che mano a mano Arrivano i carri armati Oh cari amici miei Eccoli Dai 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 Incominciamo a fare Un bel po' di devasto qui Il primo Caro armato Ormai è sotto i nostri occhi E facciamolo esplodere Devo solo sperare Che non mi metta sotto Ma noi ragazzi Siamo dei Saiyan Invincibili Vai così Devono fare una bruttissima fine Tutti questi E vai così Sono esplosi Tre carri armati Tutti e tre ragazzi Mi sa che l'esplosione Di uno Ha fatto esplodere l'altro Che poi questo Non è un carri armato Ma un fottutissimo elicottero Quindi ragazzi Si va Ne abbiamo altri Anche se Credo che fino ad ora La situazione Sia ancora gestibile È arrivato per il momento Amici miei Di vedere Vegeta Super Saiyan Purtroppo non c'è Un'animazione Di trasformazione Devo premere Semplicemente due tasti Quindi ragazzi Carichi 3 2 1 Ed ecco a voi Vegeta Super Saiyan Guardate quanto è figo Una mod fatta davvero benissimo Me la son fatta creare Apposta Direttamente Appunto dal modder Che lui aveva fatto Solo Vegeta Super Saiyan Io invece ho detto No lo voglio in versione normale E anche Super Saiyan Ed eccolo qui Tra l'altro Non preoccupatevi A breve poi vedremo anche Vegeta Super Saiyan Ma anche Goku Super Saiyan Ma in uno dei prossimi video Dovete ammettere Che tutto ciò è assurdo Ragazzi Guardate cosa sta succedendo qui Vegeta Super Saiyan Che sfida L'intero esercito Di Forte Zancudo Qualcosa di davvero assurdo Ma è impazzito Cosa sta facendo Perché gira su se stesso È impazzito per davvero Ragazzi Guarda Si stanno accavallando Perché Da quando non arrivava nessuno Adesso sta succedendo L'impossibile Noi però ragazzi Siamo praticamente invincibili Dei Super Saiyan Che non possono Essere sconfitti Così facilmente E quello perché Non muore Non riesco a capire Come fa a resistere È riuscito a scansare Il colpo Del lanciagranate Assurdo Adesso ti becco ai piedi E li esplodi Anche tu farai La stessa Bruttissima fine Quindi ragazzi Guardate cosa succede qua Un Super Saiyan Così come tra l'altro Goku Che arriva qua Cerca di fare Il devasto più totale E ci riesce Davvero una roba Assurda Io ragazzi Nei prossimi video Non voglio fare Solo cazzeggio Semplice così Voglio mostrarvi Anche altre robe fighe Come una sorta Di torneo mondiale O meglio Un torneo di Los Santos Dove appunto Vegeta E Goku Combatteranno Per davvero Quindi sarà qualcosa Di incredibile Solo che un po' Di problemi Ad installare le mod Quindi Mi ci vuole Un po' Di tempo in più Però tranquilli ragazzi Vegeta Goku E anche qualche altro Personaggio di Dragon Ball Super Vi ho svelato Bills Ma non ve ne svelo altri Arriveranno qui Allo Santos Per partecipare Al torneo Questo che fa Si buttava verso di me Come ti permetti Però ragazzi È arrivato il momento Di allontanarci Da tutto sto casino E guardate Vegeta quanto è figo Con l'esplosione Alle spalle Che si allontana Quindi ragazzi Andiamo via da qua Rimetto mani Alla tastiera Visto che ogni tanto Utilizzo il controller Che mi ci trovo meglio E Vegeta Super Saiyan S'allontana Che poi volando così Super Saiyan È ancora molto Molto più figo Mi raccomando Iscrivetevi ora Al canale Se ancora non l'avete fatto Guardate altri video Di GTA O di Dragon Ball Cliccando sulle due miniature Che vedete ora a schermo Per me è stato davvero Un onore mostrarvi Vegeta normale E Vegeta Super Saiyan Quindi alla prossima Ciao